Conteinex. Creare spazio con prefabbricati modulari. L'impresa del gruppo LKV Balter, leader europeo nel settore dei container e dell'edilizia prefabbricata, fornisce in tutta Europa spazio pronto, cioè soluzioni di spazio realizzabili con i prefabbricati. Personale specializzato vi seguirà nella vostra lingua madre e i tecnici qualificati progetteranno per voi soluzioni individuali. La gamma di prodotti comprende prefabbricati uso uffici, sanitari, magazzino e marittimi, tutte caratterizzate da facilità di montaggio, rapida posa in loco, con conseguente risparmio di tempo e denaro. I prodotti sono disponibili in vario colore dimensione e offrono ampia possibilità di personalizzazione. Conteinex dispone di un deposito certificato e attrezzato per riparazione e movimentazione dei container e offre un servizio di noleggio per piccole, medie aziende e multinazionali. Il nostro servizio vi convincerà! www.conteinex.com 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 Grazie a tutti.